Ciao ragazzi, sono Marco D'Andrea, chitarrista dei Planet Hard e del mio progetto solista omonimo Marco D'Andrea. Oggi sono qui a parlarvi di un marchio che ho il piacere di rappresentare e sono le chitarre classiche spagnole Jose Torres. Andiamo subito a fare una breve panoramica sullo strumento perché ovviamente si presenta con la forma classica da chitarra A8, la produzione fatta in Spagna, dove arrivano i migliori liutai di questo strumento. Andando a vedere abbiamo la parte posteriore che è fatta con fondo e fasce in palissandro indiano massello, mentre la parte superiore, questa tavola armonica lucida con queste bellissime rifiniture sulla buca che è in cedro massello con legni accuratamente scelti. Abbiamo poi il manico della chitarra che anch'esso è in cedro, la tastiera in ebano e le meccaniche che sono dorate, che insomma sono una chicca perché sono molto belle anche da vedere quando si suona. Bene, adesso vi faccio sentire come suona in un contesto di musica classica perché questo strumento, l'action tra l'altro, che è dotata anche di un thrust rod all'interno che è regolabile, è già dato di fabbrica con una regolazione, quindi con l'action abbastanza alta per poter suonare appunto musica classica. Vi faccio sentire qualcosa. Grazie a tutti. 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 Bene ragazzi, in conclusione cos'altro c'è da aggiungere su questo modello JTC75 che è il modello fascia alta per quanto riguarda appunto le sonorità legate al mondo della classica. Poi ci sono anche delle chitarre fatte apposta su specifiche flamenco appunto essendo chitarre spagnole. Questo prodotto è distribuito per l'Italia da Dagi Italia, quindi andate pure a fare un giro sul loro sito per vedere tutti i vari prodotti che distribuiscono. se vi è piaciuto questo video lasciate pure un commento, venitemi a trovare sul mio profilo Facebook e su Instagram. Io sono Marco D'Andrea e anche sul mio sito internet marcodandrea.it niente, vi saluto e vi auguro buona suonata. Ciao ragazzi.